Continua senza sosta la marcia di soccorso Cresta alla conquista dell'Irpinia e della sua Castelfranci. Il Maratoneta, partito da Lugano giovedì e desideroso di tornare nel suo paese natio, è arrivato in Emilia Romagna, Parma, ed in questi momenti sta raggiungendo la città di Reggio Emilia per la quinta tappa del suo percorso. Con il lupo nel cuore, nelle foto delle sue soste, in bella mostra alla bandiera dell'Avellino, Cresta è una vera e propria icona dello sport irpino ed oggi percorrerà oltre 300 km. Alla partenza per Reggio Emilia il Soc, chiamato così da suoi amici e suo figlio Gabri, ha avuto una bellissima sorpresa, infatti è stato salutato dalla figlia Simona con un caloroso abbraccio. Durante la sosta parmense il nostro atleta ne ha approfittato per assaggiare il più classico dei prosciutti, quello di Parma, e un gustoso pezzo di parmigiano che serve a mantenersi in forma. Insomma, ha unito l'utile alla dilettevole. Bravo soccorso! Grazie a tutti!